L'iniziativa consiste in una camminata per il bellissimo lungomare di Pesaro che si terrà tra l'altro in contemporanea in 82 città italiane. Questa iniziativa Fit Walking for Aile nasce da Aile Roma, dalla sede nazionale ed è giunta alla quinta edizione, chiaramente l'edizione precedente è stata fatta in virtuale. Quest'anno finalmente riusciamo a farla dal vivo, quindi si camminerà tranquillamente partendo dalla Padre di Pomodoro si arriverà al molo di Levante e si tornerà indietro in tutta tranquillità, quindi potranno partecipare le famiglie intere, i passeggini, chi vuole anche in bicicletta, non è un problema. Quindi vi aspettiamo numerosi domenica 26 settembre il punto di incontro è fissato alle ore 9, la camminata inizierà alle ore 11. La nostra mission in fondo è quella di aiutare chi ha bisogno, chiaramente mettendo al primo posto i malati di leucemia che purtroppo sono sempre di più. Io ripeto, quando parlo con i miei collaboratori noi abbiamo un villaggio Aile con circa 12 appartamenti, al momento purtroppo sono tutti quanti occupati e quando parlo anche con gli occupanti dico il mio sogno è quello di vedere questo villaggio vuoto. Quel nostro invito, quello a tutti quanti i cittadini di Pesaro, famiglie con bambini piccoli, i passeggini, con i nonni, venire, venire, venire. Domenica mattina dalle 9 in poi con partenza alle 11 una bellissima camminata per Pesaro, pianeggiante, facile, bella. Aiutiamo Aile, aiutiamo la città di Pesaro. Serve tanta gente perché comunque sia ci sarà anche la possibilità di donare il proprio contributo per questa camminata che ha una finalità benefica. Benefica anche perché camminare fa bene alla salute. In più si contribuisce Aile per la causa della ricerca e del sostegno alle persone malate. Per partecipare è molto semplice, ci si può iscrivere presso la nostra sede in via Mameli 22 versando la quota di 10 euro, verrà consegnato poi Petorina, lo Zainetto eccetera eccetera oppure sul sito nazionale mycrown.it e fare una donazione direttamente dal web. Oppure anche domenica mattina venire un po' prima e pagare la quota di iscrizione, 10 euro ripeto, e iscriversi.